Ma cosa dicono esattamente le previsioni? L'abbiamo chiesto ad un esperto. Tanta pioggia, ma c'è da sperare in alcune pause. Non un solo impulso perturbato, ma almeno due o tre fronti che si spostano da ovest verso est e che nei prossimi giorni interesseranno anche il Veneto e il Vicentino. Sono queste le previsioni meteo dei prossimi giorni che giustificano la decisione della regione di lanciare uno stato d'attenzione. Sulle prealpi vicentine potrebbero cadere 150 mm di pioggia, 40 in pianura. Nella mattinata di domani andranno a esaurirsi per poi ricominciare in maniera più abbondante a partire dal tardo pomeriggio e durante la serata. Piogge che ci accompagneranno in maniera a tratti battente fino alla prima parte di venerdì. Come detto, il maltempo si ripresenterà in fasi successive. Un altro impulso perturbato è atteso nella seconda parte della giornata di sabato. Troppo presto oggi per definire con precisione il grado di pericolosità di quello che potrebbe accadere venerdì sera o addirittura sabato. L'unico aspetto positivo è che ci saranno delle pause fra un'acquazione e l'altro, abbastanza per prendere fiato, aspettare il passaggio dell'onda di piena e prepararsi alla successiva.